Nell'ultima puntata trattavamo del tema dei presunti fondi europei e parlavamo del tema dell'eliminazione dal sistema economico italiano delle piccole imprese. Procediamo con questo argomento. La logica conseguenza di tali politiche, sempre di stampo neoliberista, sono le solite ormai note ricette, taglia i bilanci degli Stati e della spesa pubblica. Abbiamo falcidiato la spesa sanitaria italiana nell'ultima decade per accedere ora a presunti fondi europei perduti, in realtà soldi a prestito che dovremo restituire mediante tassazione, con i quali faremo la transizione digitale, per cui a partire dal 2023 taglieremo altre centinaia di milioni dalla sanità italiana. Ecco, commento la pillola di oggi perché sembra un assurdo, un non senso. Noi abbiamo passato gli ultimi dieci anni, a partire dal governo Monti, che venne invocato dalle pagine del Sole 24 ore col titolo a nove colonne, fate presto, nel senso che dovevamo sostituire il governo Berlusconi con un governo tecnico che avrebbe attuato le politiche neoliberiste volute dall'Unione Europea. E così abbiamo continuato a fare avanzi primari, che vuol dire aumentare le tasse e ridurre la spesa pubblica. Ma le cose non sono andate bene, come tutti sappiamo, il debito pubblico anziché ridursi è aumentato, ed è normale che sia così perché se tu deprimi la spesa pubblica il crollo che c'è a livello di PIL è maggiore di quello che puoi compensare in termini di aumento della pressione fiscale, cioè tu stai creando in realtà un disallineamento, stai creando una situazione in cui continui a tagliare e ad aumentare la pressione fiscale. Ma scende il PIL più di quanto sia il fatto del debito, quindi la frazione debito-PIL è peggiore. Ora, il problema è il fatto che noi sostanzialmente parliamo di transizione digitale, ma tutti questi soldi che mettiamo sulla transizione digitale, che vengono presentati come presunti contributi a fondo perduto, quando in realtà sono garanzie date dalle risorse proprie italiane e garanzie date ai titoli di tipo AAA che verranno emessi a debito dall'Unione Europea per poi darci quei soldi che dovremo rimborsare con tasse italiane oppure con tasse europee, ebbene questa situazione folle ci porterà a tagliare, e lo sappiamo già, altre centinaia di milioni guarda caso dalla sanità. Ma allora tutto questo che senso ha? Io non lo so, chiedetevelo anche voi.